Musica Che dire, non ci voleva Abbiamo rivisto la sintesi di Bari e l'Albinolefe Non ci voleva Gigi Frisini ben ritrovato Ben ritrovati anche a voi Purtroppo siamo a commentare la prima sconfitta stagionale del Bari Guarda caso con l'Albinolefe Che è una squadra che sta alla B Come il Parma sta al campionato di Serie A Però al di là di questo Che valutazioni fare? Un po' la partita ha già vissuto una serie di analisi molto precise Che hanno trovato un po' tutti i concordi La tua analisi qual è? La mia analisi è che il calcio è tutto il contrario di tutto Fino alla fine del primo tempo avevamo la miglior difesa C'erano i problemi in attacca Abbiamo scoperto un attaccante che fa due gole E la difesa prende il gol Però se dobbiamo fare un'analisi Un'analisi precisa Secondo me Ieri Fortunato L'ex giocatore del Bari L'ex giocatore del Bari Ha sicuramente battuto Torrente Nella gestione dei cambi almeno Nella gestione dei cambi Io credo che poi Il Bari ieri Si è stato un po' influenzato Da quello che si è detto in settimana Ha voluto subito dimostrare di essere una squadra da playoff Essere da playoff vuol dire battere l'Albino Leffe Sull'1-1 Ha provato a testa bassa a vincere una partita E si è sposto clamorosamente al contropiede dell'Albino Leffe Che poi ha trovato gioco facile Su quella fascia dove c'era Coppone Che era praticamente I problemi li aveva C'è Coppone che poteva giocare lì Pino quando era coperto dagli altri No ma perché Coppone che ha giocato un primo tempo tranquillo Perché chi marcava era la NER Che è un centrocampista adattato a fare l'esterna sinistra In momenti in cui Ecco perché dico bravo fortunato Gli ha messo l'attaccante Foglio Praticamente a quel punto Foglio ha letteralmente vinto la partita Perché loro hanno continuatamente giocato sulla sinistra Poi Enzo ho visto degli arembaggi inutili Lasciando terra libera all'Albino Leffe sistematicamente Io ho capito che qualcosa di strano stava accadendo Quando ho visto Dos Santos Sprendere il pallone e farsi 50 metri parla al piede Non so se hai visto quell'azione di Dos Santos E' saltato qualcosa nella testa dei giocatori del Bari Comunque c'è un amico in linea Pronto? Ciao Enzo, sono Nicola Ciao Nicola Ciao Carlo Ciao Con l'Albino Leffe ci va tutto storto Non ci va bene Non ci va bene Episodi strani Difensore che cade Rigori non concessi Rigori avuto dopo un consulto Cioè è assurdo Con l'Albino Leffe è tutto storto Però Enzo a me non convince il 4-3-3 Perché non c'è gioco se le fasce I centrocampisti hanno paura di sbilanciarsi Quindi c'è sempre una spaccatura C'è un centrocampo e attacco Quindi a te se mi ha una risposta Ti convincerò il 4-2-3-3 Ma Enzo non è che non mi convince Fino a ora bene o male La squadra ha mantenuto l'equilibrio Ieri purtroppo Per la fretta di recuperare Anche perché si era creato Questo clima di entusione Ecco perché la Serie B Ti dice di andare sempre molto Ma molto cauti Insomma Perché non dimenticare Anche i risultati Eclatanti Il Livorno è capace Di imporre il pareggio E poi di punti bianco Prende due gol da Nocerini Il campionato di B è quello L'unico problema Che effettivamente Effettivamente In momenti in cui hai 6-7 difensori Perché adesso Il numero di difensori L'ho completato Non si può vedere Un giocatore Senza nulla togliere Al Coppunic centrocampista Però effettivamente Il Coppunic Terzino Non ha convinto Nemmeno Ritengo non ha convinto Neanche Torrente Ecco Questo dimostra Ancora una volta Come in Serie B Devi aspettare Almeno 7-8 partite Per avere un'idea Di quella che può essere La prospettiva della squadra Perché a mio avviso Paradossalmente Il Bari è stato più vicino Alla vittoria Nella gara contro la Bionale F Che non in quella Modena Dove l'episodio Traversa Gol del Bari Cambia un po' tutto Quindi andiamo cauti Indubbiamente Mi piaceva l'idea Di un Bari Inossidabile In fase difensiva Invece purtroppo Proprio lì ieri Sono arrivati I problemi maggiori Però al di là di questo Ripeto Ogni partita Ha Come dire Delle dinamiche Molto particolari E ripeto Quella di ieri Con la Bionale F È stata veramente una partita strana C'è un amico in linea Pronto Ciao Enzo Sono Roberto Dabari Sono Gigi Ciao Sono in accordo Con l'analisi Che ha fatto Gigi Frisini Infatti a un certo punto I giocatori Hanno iniziato un po' A perdere la testa Soprattutto è stata La prima partita In cui l'allenatore Un po' Lasciato a desiderare Soprattutto con i campi E poi con Kopunek Terzino Che si è fatto Sempre saltare Dall'avversario Anche se l'allenatore Era disperato Lo vedevo disperato In panchina Perché aveva capito Che la squadra Stava facendo un po' Di testa sua Non so se hai visto A volte le immagini Era disperato Ha capito che la squadra Gli stava sfuggendo dalle mani Poi un'altra cosa I tre d'attacco Così come sono disposti oggi Non funzionano bene Cioè De Paola Si è mosso molto bene Ha anche Forestieri Meglio dell'altra volta Marotta Si è generoso Però Forse tutti e tre insieme Così non va molto bene Grazie 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 Per il tuo intervento Intanto c'è Come dire E' nata una sorta di dibattito In città Curioso Divertente Su questa storia Dell'inno Che viene Della musichetta Che viene suonata Al Gol del Bari Una musichetta Che in questo momento Evoca poco di buono Perché se con Conte Con Ventura Ha accompagnato Le cavalcate trionfali Di quelle squadre Da un anno a questa parte Praticamente Una musica Che suona quasi platonica E persino un po' Beffarda Ieri addirittura Ancora più Beffarda Perché è suonata Dopo il secondo gol del Bari Di De Paola Quando mancava un minuto al termine E aveva ancora sotto 2 a 3 Allora la gente dice Bisogna cambiare la musica Perché qua il Bari Non vince da un anno in casa Dobbiamo cambiare un po' di cospi Che anche Anche lo stesso Quando l'arbitro ha indicato I tre minuti Non erano tre minuti Erano sei minuti E all'improvviso E' parso una E Insomma Sembrava di stare a scuola Sembrava di stare a scuola Ma anche Tutto L'assetto In rodaggio Come effettivamente Come attenuanti C'è da dire Che i campi Sono stati effettuati Anche perché Bogliacino Più di un'ora Non ce l'aveva Qualche altro Praticamente E che è successo Che è scontato La buona partita Delle sordie E poi il fatto Che ti mancavano I chilometraggio Che acquisiscono Durante le partite Ma lo Biasino Ha avuto Qualche Buona iniziativa Un po' in punta di piedi Però Giustamente Non è ancora entrato In possesso Di quello che Qualche bella sventagliata Lui ce l'ha il piede Il cambio di palla 40 metri Allora Allora Io devo dirvi Per un'altra cosa Poi a prescindere Da questo Io faccio fatica Un po' in questo momento Anche ad analizzare Le cose Come stanno E tutto il resto Devo dire Che avverto Questo senso Di non appartenenza Al campionato In che senso Per me giocare Al San Nicola Il campionato di Serie B È un controsenso Clamoroso È un controsenso Clamoroso È come andare Con la Ferrari In centro Non so se è chiaro Per cui Alla fine Non riesci Davvero una cosa Che dice poco Anche ieri Senza nulla togliere Adesso Vabbè Che la Lega di B Non si può giocare Alle tre del pomeriggio Anche perché Nei 105 anni Di storia del Bari Al seguito Di una vittoria esterna Anche se Ottenuti in quella maniera Tu 10.000 spettatori Ce l'avevi Invece ieri Ci sono stati Appena 1700 pagati E non è per la squadra È perché effettivamente È da pazzi Giocare alle tre del pomeriggio C'è un amico in linea Pronto Ciao Enzo Sono Massimo Ciao Massimo Ciao caro Senti Enzo Una domanda Cioè volevo chiedervi Perché non si è optato Per Le altre terzini Che abbiamo Anziché Metacopnik In quel ruolo E poi Vabbè io dico Che comunque Le spese scomplite Aiutano a crescere E poi volevo dire Che ieri I 1700 paganti Secondo me C'è un paradosso enorme Cioè Il biglietto di Tribuna Ovest Costa 25 euro Mentre quello di curva 13 più 2 15 euro Quindi una differenza Cioè non costa di più Tribuna Ovest E la Tribuna Ovest Quanto costa invece? 20 euro 20 euro È un paradosso Se 10 euro di differenza Fra la curva e la tribuna È proprio È una cosa assurda Perché l'anno scorso C'erano 32 euro di differenza Fra la tribuna Ovest E la curva Cioè invece di favorire Il posto più popolare Vanno a favorire Vanno a dimezzare I prezzi Dalla tribuna Ovest Dove veramente Cioè vanno 200 persone Grazie Va bene Va bene Grazie per il tuo intervento Fate bene a segnalare Queste cose Io credo Continua a dire Che il biglietto a 13 euro In curva nord Più 2 di Preventa Sia un'esagerazione Considerato il campionato del Bari Torrente Torrente Sentiamo cosa ha detto Dopo la partita Iniziamo dall'episodio Dall'episodio favorevole Che poteva essere per noi Di forestieri in aria Che si fa giù Fischi a rigore All'episodio Invece per l'Albinolef Che è stato Poi quello lì Che è stato determinante Perché è cambiato qualcosa Forse i ragazzi pensavano Di aver subito un'ingiustizia E da lì abbiamo smesso di giocare Ci siamo allungati Non abbiamo giocato Come abbiamo fatto nel primo tempo Abbiamo subito sempre L'uno contro uno Anche se poi I gol che abbiamo subiti Eravamo sempre in superiorità numerica Abbiamo commesso degli errori Delle ingenuità E c'è stato un pizzico di presunzione Quello che temevo Alla vigilia della partita Però è successo nel secondo tempo Nel primo tempo abbiamo fatto Una buona gara Di qualità Però non siamo riusciti A chiuderla E poi c'è stata questa frenesia Abbiamo perso la testa Dopo l'1-1 Non capisco il perché Troppo ingenui E abbiamo regalato poi Le ripartenze All'Albinolef Che è stato molto concreta Sono contento che si va a Padua Perché è già un test Importante E mi aspetto Una grande reazione Dalla squadra Dobbiamo evitare Questi cali di Di tensione Di concentrazione E queste ingenuità Che in questo campionato Le paghi Con qualsiasi squadra L'avevo già detto Alla vigilia Partite semplici In questo campionato Non esiste Come molli un attimo Se non c'è l'umiltà E la determinazione Poi rischi Di perdere con chiunque